Bene, ecco il taglio, complimenti e auguri, auguri di gioia, auguri! Allora Carmelo, dopo tanto lavoro, dopo tanta fatica, nottate e mattinate, finalmente il Parco Avventura apre al pubblico, quanta soddisfazione e quanto orgoglio c'è in questo? Tantissima, tantissima perché ci abbiamo messo l'anima e sicuramente continueremo a metterlo, ma la cosa che ci ha dato più soddisfazione è stata l'aiuto da parte degli amici che ci hanno messo più anima di noi, nel senso che si sono spesi senza chiedere nulla in cambio, proprio per il piacere di aiutarci e di vedere questa struttura sbocciare come effettivamente sta sbocciando in prossimità, proprio in coincidenza con l'apertura e con la primavera e la bella stagione insomma. Senti Carmelo, vogliamo ricordare ai nostri amici che vedranno questa intervista quali sono i servizi che è in grado di offrire il Parco Avventura intitolato, ricordiamolo, a Pippo Fava? I servizi al momento operativi sono i percorsi acrobatici che abbiamo alle nostre spalle, abbiamo il tiro con l'arco, l'aria attrezzata con i barbecue, la slackline e prossimamente nel giro di poco tempo ci attrezzeremo con il calcio balillo a mano e il biliardo a grandezza naturale. Bene, per tutto questo bisognerà ovviamente per accedere a questi servizi occorrerà pagare un ticket, c'è già un tariffario, possiamo dare un'idea di quelli che sono i costi di una giornata da trascorrere qui al Boschetto? Abbiamo già un tariffario ed è pubblicato sulla nostra pagina Facebook Parco Avventura il Boschetto, per dare un'idea un bambino per fare il percorso verde, che è il percorso più semplice, a partire da un metro e trenta si pagherà sei euro. Ovviamente entrambi i percorsi invece saranno 10 euro, diciamo il primo percorso verde è il percorso blu, avrà un costo di 10 euro, ma ci saranno dell'offerta ovviamente per quanto riguarda i gruppi e le comitive. Per il picnic invece uno che da aggrigento per esempio volesse evadere dalla città e venire qui diciamo a farsi una schiticchiata? Per la schiticchiata abbiamo l'aria attrezzata che costerà 2 euro compresa di legna, griglia, la legna fornita da noi e l'aria attrezzata, è un posto a sedere. Sarà anche disponibile la possibilità di fare dei picnic con delle tovaglie e dei cestini in mezzo alla natura in modo relax. Senti, il leitmotiv dei nostri tempi e soprattutto dei nostri luoghi purtroppo è quello dei giovani che sono costretti ad andare via. Possiamo interpretare invece questa vostra scelta come una scelta d'amore per il vostro piccolo paese? Assolutamente, anche perché io personalmente sono proprio la prova perché ho studiato fuori, ho studiato a Rimini, ho studiato turismo, ma il turismo io lo volevo fare nella mia terra e non fuori. Quindi è la dimostrazione. Un'ultima cosa, volevo ricordare che ci sarà anche un'aria con delle amache e dei libri a disposizione di tutti i clienti gratuitamente perché la cultura deve essere condivisa, deve essere pubblica e soprattutto gratuita.